ben trovati a tutti per l'angolo del libro di Valsugana web tv oggi vorrei presentarvi il monito della ninfea vaia la montagna il limite di diego cason e michele nardelli edito da linea grafica bertelli il libro è un lavoro collettivo è l'esito di un lungo viaggio che è stato fatto dagli autori nei luoghi della devastazione prodotta da vaia è anche un'occasione per una riflessione per una riflessione su quello che questo cataclisma ha provocato ma soprattutto un monito un monito per tutti noi per cambiare i nostri gesti quotidiani il nostro modo di vivere e l'economia collettiva lo potete trovare presso la libreria Il Ponte di Borgo Valsugana Grazie a tutti Grazie a tutti